Buongiorno a tutti, allora io voglio recensire un prodotto di questa ditta, si chiama Rize Mousse o Rize Mousse o non so come si chiama, comunque siamo in Italia, leggo Rize Mousse, sono delle mousse, mousse Arizona, in cui guardando le caratteristiche generali leggo non ha data di scadenza, non si polverizza, non si taglia, prodotta con nuove tecnologie, nuovi materiali, diversi dagli altri competitor, eccetera, eccetera, è consigliato l'utilizzo del fermacopertone, dunque consigliato vuol dire che se è italiano probabilmente uno può girare anche senza, scusate, va bene, adesso vi faccio vedere il risultato, praticamente io ho comperato queste mousse per fare l'Ella Srelli in Grecia, convinto dalla pubblicità che ho letto sul sito, azienda italiana, ho detto ma si dai spendiamo i nostri 250 euro, mousse che non finiscono mai, non si tagliano, non si polverizzano, non hanno data di scadenza, eccetera, 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 va bene, ok, questa è la mousse anteriore, adesso mi metterei anche un guanto perché è tutta sporca, va bene, non è un problema, questa qua è la mousse anteriore dopo una tappa e mezza, dunque questa mousse ha fatto circa 400 km, ok, questa è l'anteriore, questo è il prodotto che non si taglia, non si polverizza, eccetera, 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 questo qua invece è la posteriore, guardate com'è ridotta dentro, io non so se si è già così di natura, cava o che cavolo ne so, so solo che praticamente mi sono dovuto ritirare dalla seconda tappa perché la moto praticamente non andava più da nessuna parte e ho preso la forfettaria e ho buttato via questa roba qua, 400 km circa, Rizemus, ecco il prodotto fantastico, ho contattato, chiaramente ho contattato l'ufficio di Rizemus che mi ha detto che il problema, il problema non sono le mousse, sono io che non ho montato il fermo a copertone, ok, io uso mousse da una vita, ho delle Michelin, vi faccio vedere, qua, ho delle Michelin che praticamente hanno quattro anni, ok, questa è una mousse che ha quattro anni, utilizzata nello stesso modo uguale identico, uguale, preciso, senza fermo a copertone, ha 6.000 km e ancora la utilizzo, va bene? Questa qua è la mousse Michelin, parità di utilizzo, 6.000 km, 4 anni, 2 giorni, 400 km, bene, allora mi dicono che il problema sono io, non sono le mousse, va bene, io lascio a voi decidere la bontà di questo prodotto e niente, vi ho raccontato la mia esperienza, saluti!